Amiche e amici di Super J, benvenuti allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, Lorenzo Mazzaufo, alla voce coadiuvato da Giancarlo Rapagnà. Per quanto riguarda le riprese, siamo pronti per raccontarvi il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza, la fase nazionale. Partita di ritorno tra il città di Teramo, 1913, e l'Aurora. Alto Casertano, attenzione a Turey in area di rigore, Turey con la finta. Poi il passaggio per Governatori, ancora Governatori, Turey che rimane fermo, il cross al centro dell'area e arriva la rete del Teramo, esattamente al settimo minuto del primo tempo. Detro passaggio però completamente sbagliato, attenzione qui all'Aurora che li può ripartire con Alfa Gamè, Alfa Gamè ancora carica il destro, la parata da parte di Negro in calcio d'angolo. Corner che viene battuto in questo momento, attenzione c'è il gol, gol dell'Aurora, alto Casertano, subito il pareggio. Perde però il pallone, ancora il Teramo con Governatori in area di rigore, passaggio per Massarotti, carica il sinistro, Massarotti, alto di poco, sopra la traversa. E sbaglia il passaggio, intanto il Teramo perde un altro pallone, Gargiulo la palla per Manna. Attenzione quel cross molto interessante e c'era stata la deviazione da parte di Dovidio, De Lucia che va a contrastarlo, Van Zan, ancora Osses, Osses con il sinistro, la palla che termina fuori. Ancora il Teramo che qui è aggressivo, attenzione a Turey, passaggio per Ray, c'è anche il taglio di Osses, Ray con il mancino, Ray da fuori area e finisce fuori il tiro di Simone Ray. Vanz ancora Ray, prova il dribbling, li riesce, sempre Ray, passaggio per Turey, Turey all'interno dell'area di rigore, il velo, poi il tiro da parte di Osses, la parata che viene effettuata da Esposito. Affiane, ancora Mema, provano il dialogo, bella qui il duetto diciamo 3-2, Affiane contro Damiani. Palla per Dovidio, attenzione da fuori area, a Dovidio, tiro velenoso, Ray, ancora Ray, va in area di rigore, Ray, Ray, esposizione, il pallone sul sinistro, rasoterra di Ray, parata di Esposito, quindi Van Zan. Cerca ancora Turey di sfruttare la propria velocità, tutto regolare, attenzione Turey in area di rigore, Turey il passaggio in mezzo, attenzione a Ray, Ray, la traversa di Simone Ray. Turey per Osses, attenzione a Ray che si muove sul filo del fuorigioco, pallone proprio per Ray, tutto regolare, ancora Ray, avanza, Ray con il mancino, si posiziona il pallone, Ray, tiro, rete, Simone, Ray al quattordicesimo minuto del secondo tempo, raddoppio del Teramo. Passaggio per Alphageme, Van Zan che va a contrastarlo, Alphageme vince il contrasto, attenzione al tiro cross da parte di Alphageme che prende anche il palo, anticipo da parte di Van Zan, attenzione qui a contropiede, partito Van Zan, c'è anche Ray alla sua destra, Dos Santos sulla sinistra, servito Ray, lo aspetta Puolo, sempre Ray, va in area di rigore, cerca sempre il sinistro, Ray con il tiro e il gol di Simone Ray, 3 a 1 per il Teramo. Ray all'interno dell'area di rigore, sempre Ray, passaggio per Dos Santos, la finta Dos Santos, Dos Santos con il sinistro, pallone che Sibila alla destra di Esposito, finisce qui allo stadio Gaetano Bonolis, il Teramo batte l'Aurora Alto Casertano, 3 a 1, accede così ai quarti di finale di Coppa Italia, la fase nazionale dove affronterà il Terracina.